Tantissimi gatti che mancano all'appello da svariati giorni e questo è il grido di allarme lanciato da parte di alcuni residenti agropolesi all'associazione Spartacus che denunciano la scomparsa di decine di gatti delle colonie sul territorio. Tantissimi felini infatti da molto tempo non hanno fatto più ritorno nei punti abituali presso i quali alcune volontarie del posto lasciavano cibo e acqua per il loro sostentamento e non solo. Anche gatti di proprietà che da un giorno all'altro sono spariti nel nulla senza lasciare il minimo indizio per risalire alla loro assenza che si protrae ormai da qualche settimana. I volontari che si occupano di essi si augurano che si possa fare luce sull'improvvisa loro scomparsa. Fra le varie testimonianze fanno sapere dall'associazione Spartacus vogliamo riportare alcune dichiarazioni in merito all'incresciosa vicenda. Due cittadini che abitano presso la frazione San Marco di Agropoli qualche mese fa, introduce il signor Giovanni, ho esaudito il desiderio di mia figlia che desiderava adottare qualche gattino che io ho prontamente trovato e sistemato in casa. A questo si sono aggiunti altri tre gattini che si erano abituati a giocare anche nel giardino della nostra abitazione per poi fare il ritorno in appartamento. A distanza di pochi giorni sono improvvisamente spariti tutti e tre, uno dopo l'altro, senza lasciare traccia. Sarei tentato di prendere altri gatti ma temendo per la loro incolumità ho deciso di non adottarne più per il momento se non altro dopo aver appurato la motivazione della scomparsa di quelli che avevo adottato che ormai erano diventati di casa. La nostra associazione fanno sapere i volontari di concerto con le persone che hanno segnalato il problema invita pertanto le autorità preposte e all'asla di competenza a intraprendere un'accurata indagine che possa fare luce al più presto su questo mistero. Dopo la denuncia sui mezzi di informazione non si esclude l'ipotesi di presentare ai carabinieri regolare denuncia contro ignoti che possa contribuire a risolvere il mistero di queste scomparse che ci auguriamo non si estenda ad altre colonie presenti sul territorio. Tanti infatti sono i gatti randaggi che sono quotidianamente accuditi, curati e rifocillati amorevolmente da tante volontarie che a costo di tanti sacrifici economici e di tempo non esitano a prendersene cura felini che ormai vivono un po' ovunque nelle aree urbane e non. L'incubo della scomparsa di altri esemplari convive ormai con quanti hanno uno o più gatti pertanto concludono i volontari dell'associazione invitiamo tutti alla massima prudenza ed attenzione e dove sia possibile ad una più accurata sorveglianza dell'animale da compagnia segnalando tempestivamente altri eventuali casi di scomparsa che ci auguriamo non vadano ad aggiungersi a quelli che purtroppo si stanno drammaticamente verificando in città.